Musica Ok le ultime cose le ho preparate Il caffè è pronto Allora faccio vedere tutto Oh ma che buon profumino Come del pasticcere Oh così tante cose Spero ci sia una festa Oh penso sia una sorpresa per me Sì sarà sì sicuro tutto Per me è una festa per Emma Sì E ne me ne brecca tu Sei bla Emma Devo dirti qualcosa Cosa? La mamma ha preparato tante cose giù E penso sia una sorpresa Oh sì sarà per me Oh ma quanto sono stato in bagno Oh e puzza di nuovo Non dovrebbe entrare nessuno Ma cosa fanno di nuovo nella camera di Anna? Oh si parleranno su di mezzo E sono sicuro Devo ascoltare Giulia me lo c'entra Devo dirvi qualcosa Mamma Mamma penso sia programmando Una festa sorpresa con tante torte Per me? Per me? No per me No Allora Vi piacete Lo sapete Siete una famiglia Ma perché la mamma dovrebbe fare una sorpresa per voi? Sicuramente No Ma la festa sarà di sicuro per me Perché sono la bambina migliore No per me Io sono la più piccola Julian Emma scendete Vi sono La festa non la risicura per te Sarà per me Vorrei dire Ma che la festa è per me Eh? Sì 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 Ah non mi interessa Scendo anch'io Anch'io voglio mangiare la torta Oh guarda la mamma Ma 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 Non sembra contenta Hai fatto qualcosa No E voi due Guardate un po' Che caos avete fatto qui in salotto C'è di tutto Sul pavimento Potete per favore riordinare? Cosa? Io non sono stato Neanche io No no Chiudi ho Anna Non ho bisogno Ok? Lo so Vi ho visto Eravate qui a guardare i cartoni Ok ok Va bene Ma 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 perché ci sono torte dappertutto E dolci? C'è una falsa sorpresa? Eh sì Per chi? Ah ah Ve lo dirò Quando avrete sistemato tutto Veloci Oh wow È tutto così buono È fresco È Wow Mamma Per chi è la festa? Eh I roboti sono tornato Oh wow Mamma Cosa è successo qui? Oh che buono Mamma Ma come mai? Oh no Oh no Oh no Oh no Ora mi ricordo No Mamma Mamma abbiamo finito Sì Tutto finito Ora diccelo Per chi è la festa? Diccelo Sì mamma Ora dillo Dai Vogliamo saperlo Oh sì Oh oh C'è qualcuno Che viene a trovarci Oh no Ah eccomi finalmente Addirittura in anticipo No 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 Speravo ci fosse una festa Oh no Sarà anche una festa Ma una brutta Oh no Sarebbe stata una festa Sorpresa per Julian Ma non l'iscivose No Oh Julian 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 Ancora questa maglietta Mamma Non potresti cambiarti Ogni tanto Qualcosa del 2012 Oh non è proprio voglia Di parlare con voi ora Oh spero di restare a casa La prossima volta Ciao Ciao Tessa Sei stata a cavallo Recentemente? Oh ma Ma cosa ti metti Quel pinguino lì? E allora? Molto bene I bambini giocano già insieme E allora Possiamo mangiare le torte? Ne ho preparate un po' Guardate Anna Sì l'ultima volta Sono stata a cavallo Ma non su un maneggio Come il tuo Assolutamente Uno molto Molto meglio Oh accidenti Vorrei semplicemente Andare a giocare Con il tablet Oh no Voglio le torte Allora devo stare qui Oh questa ciambella Al cioccolato Sembra così buona Devo prenotarlo Come? Non lo so Oh ma si arrabbia Tutto sembra così Allora lo prendo io No Oh ma ma cosa sta succedendo Oh si non è possibile Avete magari un tè Emma Dovevo stare attento Niente piuttosto Film Mike dobbiamo fare attento Mike dobbiamo andare all'ospedale Andiamo davvero Andiamo davvero dottore Ok Peccato Devo andare Ma la giocare Era buona Sì era molto buona Forse ne abbiamo anche di più Arrivo La famiglia Oh guardate quante altre cose ci sono Mamma è bravissima Oh era così buona Sì era buonissimo Oh sono piena Suona al telefono Magari è Mario Ok Sì Sì immaginavo Ok Come immagino Era davvero esagerato Mario non aveva davvero niente Tessa Niente